ma vabbè, noi dobbiamo fare una breve premessa il prodotto scalare è un particolare caso di funzione definita da v per v a valori in r allora, le funzioni che vengono dipinte in r o comunque in un campo, non chiamate forme le funzioni che vengono da v per v e che sono sia lineare nella prima variabile sia lineare nella seconda variabile vengono definite applicazioni bilineari quindi questa cosa che ha sarebbe unissimo E2 dovrebbe essere una forma bilineare e è un caso particolare perché così come gli endomorfismi li possiamo rappresentare tramite una matrice anzi, in generale gli endomorfismi li possiamo rappresentare tramite una matrice così anche i prodotti scalari ossia le forme bilineari simmetriche che sono ancora una sottocategoria li possiamo rappresentare tramite una matrice che in generale perché si chiama simmetrica perché è una matrice che quando tu mi fai trasposta rimane a se stessa ok ora che sappiamo cos'è un prodotto scalare quindi una forma bilineare speciale vediamo quali sono le proprietà è lineare ma lo sapevamo è commutativo ma lo sapevamo questo è importante che fa 0 solo se che fa 0 con il calcato in v e se stesso e solo se il vettore è originale a 0 ok il prodotto scalare standard o prodotto scalare Euclideo è il classico vettore riga per colonna quindi manda il trasposto di V manda V e W quindi il trasposto di V per W una matrice riga, una matrice e colonna ma i prodotti scalari ce ne sono un sacco si verifica che anche l'integrale tra 0 e 1 nel prodotto di due funzioni oddio questa roba qua fa un nome vabbè si verifica che è un prodotto scalare basta vedere che sia lineare nella prima ma non è perché l'integrale lo è lineare nella seconda idem e che sia simmetrico ok quindi quando noi prendiamo un particolare tipo di spazio vettoriale un R spazio vettoriale e gli associamo una funzione che è una forma binare simmetrica quindi un prodotto scalare possiamo creare quello che viene chiamato lo spazio Euclideo che è lo spazio che noi usiamo dalle elementari dall'asilo il fatto che sia un R spazio vettoriale è importante che sia un prodotto scalare è ancora più importante perché se no angoli e misure non potremmo averli e notare che la definizione di angoli e misure come tra poco vedremo dipende da che tipo di prodotto scalare alcuni prodotti scalari per esempio negli angoli ma ci fanno cambiare le lunghezze alcuni prodotti scalari ci pesevano le lunghezze e fanno cambiare gli angoli alcuni non pesevano un cacchio ok possiamo definire la norma? vabbè diciamo che la norma definita cos'ha? allora la norma di un vettore è sempre maggiore di 0 e fa 0 solo se il vettore è 0 per pensare al caso di R3 o R2 la norma è la lunghezza di un vettore infatti immaginatevi un vettore AB AB scalare AB fa A al quadrato più B al quadrato la radice è quello che noi chiamiamo il modulo di un vettore deve verificare sia la desigualanza triangolare quindi deve essere possibile osservare i triangoli sia la desigualanza di Schwarz questa è nuova lo faccio vedere il modulo proprio modulo modulo assoluto del prodotto scalare da due vettori è sempre meno o uguale del prodotto delle norme ok adesso se abbiamo messo in un caso particolare la norma è definita come appunto così quindi con il prodotto scalare standard è questa la sommatoria delle varie coordinate al quadrato ora che sappiamo cos'è un prodotto scalare noi possiamo dire che quando due oggetti ne calcolo il prodotto scalare e ottengo zero questi qua sono ortogonali quindi possiamo generalizzare sapendo che noi diciamo che intendiamo il prodotto scalare come modo per il primo per il modo per il secondo diviso per il coso nell'angolo allora possiamo trovare l'angolo come? facendo un prodotto scalare diviso occhio che non ho detto che siamo sempre nel nostro mondo carino diviso questi in modo delle cose è una cosa bella che puoi trovare angoli tra matrici angoli tra polinomi ok ora possiamo andare insimi ortogonali gli insimi ortogonali occhio insimi non ho detto che siano spazi vettoriali allora se io parto dall'insieme S allora l'ortogonale di S è sempre un sottospazio vettoriale di V che è riuscito come l'insieme di tutti i vettori di V tali che questo V sia ortogonale all'altro quindi V scalare W faccio a 0 dove W è l'elemento di S come si trovano i ortogonali? ecco basta sfruttare il principio della base se tu sei ortogonale alla base allora sarai ortogonale a ogni combinazione lineare delle cose poi due ortogonali uno spazio sotto l'ortogonale sono sempre insomma diretta perché entrambi i spazi vettoriali e l'idea sezione è 0 quando abbiamo un insieme allora l'orto normale è semplicemente l'insieme di vettori ortogonali che hanno norma 1 tra poco con Gransch quindi vediamo ogni insieme ortogonale è costituito da vettori linealmente indipendenti ma questo lo sappiamo qualche video qua qualche video fa avevo anticipato il fatto che alcuni autovettori potrebbero non solo essere linealmente indipendenti ma anche essere ortogonali forse non ci arriviamo in questa slide ok quindi un insieme ortogonale non può contenere più di n uguale a dimensione di vettori un insieme s ortogonale è costituito da n vettori è base di v e si dice che base ortogonale di v base ortogonale se c'è una norma 1 lo sappiamo ok ora che abbiamo uno spazio vettorial video possiamo parlare della distanza dei vettori che è la norma della differenza quindi io calco il vettore differenza ho così un nuovo vettore posso calcare il nome di questo vettore e quello la chiamo a distanza ok la proiezione quindi ortogonale di un vettore su w w sottospazio possiamo fare le proiezioni sia su vettori che osavremmo fare sia sottospazio allora la proiezione di un vettore su un sottospazio è la sommatoria del vettore scalare w con i lungo w con i dove w con i è una base ortonormale del doppio grande quindi che ha modulo 1 e che sono ortogonali questa la sappiamo già è la proiezione di un vettore su un altro vettore che è voluto scalare lungo il vettore stesso e quello che vi faccio vedere la scorsa volta che si vedica facilmente che v meno la sua proiezione su w è ortogonale a w questo perché abbiamo i nostri assi quando io ho un vettore no questa è la sua proiezione lungo per esempio l'asse x allora facciamo così ok allora se io tolgo questo vettore cosa ottengo? ottengo solo questa cosa qua notare che sono ortogonali ok in particolare un vettore sembra stupido ma è carino in realtà lo puoi scrivere come la sua proiezione più il vettore nella sua proiezione grazie al cazzo però è importante perché lo si può generalizzare e ogni vettore lo si può scrivere come un elemento di w più un elemento che sta nell'ortogonale di w quindi generalizzando al massimo lo spazio lo puoi scrivere come sommatoria diretta perché abbiamo visto che l'intersezione è sempre 0 e w con il suo ortogonale poi se ti calcoli l'ortogonale dell'ortogonale ottieni lo spazio di partenza o il triplo ortogonale l'avevo visto una volta è uguale all'ortogonale di w però vabbè ok ora il processo di granschmidt il processo di granschmidt ti prende un insieme di vettori gli elementi dipendenti e ti fai uscire ortonormalizzati se lo fai con una base hai già un gradino in più allora com'è che si fa? ok il primo lo prendi e lo normalizzi quindi di per sé è un vettore chiaramente dipendente non proprio il secondo lo prendi e ci toglie la sua proiezione lungo il primo in questo modo sai come abbiamo visto prima è il caso bidimensionale che sono ortogonali poi lo prendi e lo normi quindi sono anche ortonormali perché hanno entrambi modulo 1 tra l'altro perché un vettore se io ho u perché u diviso la norma di u ha modulo 1 ha norma 1 perché questo beh 1 su a norma posso tirarlo fuori e scusatemi e poi devo calcolare la norma di quello ma quindi si semplifica e fa restamente 1 quindi ecco perché è un vettore diviso la sua norma avrà sempre norma 1 ok e quindi posso iterare il processo fino a finire tutti gli elementi e otterrò sempre una base ortonormale ogni spazio euclideo ammette una base ortonormale ok una matrice si dice ortogonale quando la sua matrice trasposta è uguale alla identità questo va bene lo possiamo anche leggere così che trasposta per a uguale identità ma ossia alla meno 1 viene rimpiazzata dalla trasposta hanno delle proprietà che i determinanti sono più o meno 1 poi ci sono gli ortogonali speciali che sono una sottocategoria che hanno determinante solo uguale 1 quello che vi dicevo poi cosa abbiamo se una matrice ortogonale la sua trasposta è ortogonale e il prodotto di matrice ortogonali è ortogonale ok e la parte bella è che le sue colonne sono formate da un insieme di vettori che formano una base ortogonale di r alla n ok un'applicazione lineare m da r alla n a r alla n è un movimento rigido che fissa l'origine conserva le distanze conserva il prodotto scalare ah ok ho capito qua stiamo parlando stiamo parlando delle isometrie non capisco perché non vediamo un nome vediamo se viene un nome no va bene ok adesso qua non c'è un nome ma si chiama teorema spettrale reale ok cosa ci dice il teorema spettrale reale che ogni matrice simmetrica può essere diagonalizzata tramite la matrice ortogonale quindi se a è simmetrica ossia a trasposto quale a allora è simile alla matrice nabla nabla vero no nabla è al contrario delta tale che delta si è triangolare delta si è diagonale e p sarà matrice ortogonale quindi le sue colonne devono essere fatti a vettori ortonormali quali saranno mai questi vettori se guarda la dimostrazione sono gli autovettori ortonormalizzati con Granschmidt e messi in colonna adesso dato l'endomorfismo quindi f da v in v si dice auto aggiunto se fa questa cosa qua strada f di v scalare w uguale w scalare f adesso in realtà ci sarebbe a fare una mini parentesina perché se voi pensate aggiunto non vi ricorderete mai cosa significa però se voi pensate che è auto aggiunto come caso particolare allora magari sì due endomorfismi f e g si dicono aggiunti se date due prodotti scalari fi e psi allora quando io faccio fi no psi tf di v con w questo deve essere uguale a psi di m di v va bene il mio valore con g di w questo è il significato di aggiunti f e g sono aggiunti se vi ricordo questa cosa qua essere auto aggiunto è un caso particolare quindi lui invece che chiamare il prodotto scalare con questi l'ha chiamato col pallino però pensate no se f uguale g allora f di v scalare w uguale v scalare f si sta si sta aggiungendo con se stesso esatto ok allora dato una base nello spazio vettoriale è fatto aggiunto solo si è auto aggiunto su una base perché poi ogni elemento può essere scritto come combinazione lineare del proprio nuovo e la cosa bella che senza stare a fare i calcoli con le basi ci basta guardare la matrice come sempre noi possiamo leggere le pubbletà degli endomorfismi dalle matrici che rappresentano in particolare gli endomorfismi auto aggiunti hanno la matrice rispetto a una base ortonormale occhio simmetrica ah ma quindi posso applicare il primo che so ossia questa ma oddio questa è una matrice simmetrica posso sempre diagonalizzarla tramite una matrice ortogonale in particolare la matrice ortogonale possiamo sempre renderla speciale quindi se io ho una matrice che ha ha le sue colonne così ok e il determinante di A vale meno 1 non è speciale per visto che speciali hanno il determinante uguale a 1 però se io cambio di segno questa quindi meno 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 e il determinante di A con la colonna cambiata a sto punto diventa più 1 quindi l'ortogonale è speciale nel caso consiste assolutamente niente non cambia niente i vettori rimangono ortonormali basta prendere invece che un vettore la direzione opposta quindi se è perpendicolare a 1 rimarrà sempre perpendicolare a un altro la lunghezza non cambia ok non solo però ogni endomorfismo autoaggiunto ha autovalori reali quindi lo possiamo leggere dai matrici ogni matrice simmetrica allora il suo poeno caratteristico è un numero reale questo forse mi piaceva lo vedere nel primo video lo si dimostra così devo dimostrare che un numero complesso ha come coniugato se stesso quindi devo dimostrare questa cosa qua ed ecco quello che vi dicevo allora data una matrice simmetrica oppure un morfismo autoaggiunto e dati due valori distinti allora gli autospazi sono tra i loro ortogonali ossia le basi che rappresentano autovalori e autovettori diversi sono ortogonali tra i loro gli autovettori di una matrice simmetrica ottima in un morfismo autoaggiunto sono ortogonali il che ci riduce già al fatto di fare ortonormalizzazione con Granshmilt perché sono già ortonormali a gruppi occhi ecco magari sta cosa qua pagliamone immaginiamo di avere una matrice che è 10x10 ok ottengo 3 sottospazi vtlambda1 vtlambda2 e vtlambda3 questi qua sono formati per esempio da v1 v2 v3 v4 v5 v6 7 8 9 e 10 per esempio 10 autovettori ok così di sicuro diagonalizzabile allora occhio a non dire che questi qua sono ortogonali no abbiamo detto che gli autovettori reattivi a autospazi diversi sono ortogonali quindi lui è ortogonale a lui a lui a lui a lui lui 9 e 10 v2 è ortogonale a v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v3 è ortogonale a tutti loro ma tutti loro non sono ortogonali quindi com'è che si trova la matrice devo ortonormalizzare per autospazi quindi prendo il primo autospazio con i tre vettori applico il granschmidt e trovo una base ortogonale che chiamo b1 idem qua e trovo una base ortogonale che chiamo b2 b qua trovo b3 e allora la matrice è fatta la matrice p di passaggio è b1 in colonna b2 in colonna e b3 in colonna questa è una matrice 10x10 nel nostro caso che avrà determinante uguale più o meno 1 dobbiamo per magari evitare di fare simmetrie tra poco vediamo eventualmente cambiare l'ultima colonna di b3 e metterci un segno meno in questo modo siamo sicuri che il determinante sia 1 ok teorema sia f da r a la n a r a la n un omorfismo associato tramite la base canonica a una matrice simmetrica se sono autovalori distinti allora r a la n è lo sappiamo già dato che diagonalizzate è la sommatoria dei autospazi che sappiamo essere sia insomma diretta sia ortogonali questo lo riscrive va bene ok esempi 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 ecco passiamo ai c spazi vettoriali i c spazi vettoriali hanno la piccolarietà di non avere un ordinamento quindi se io vi do un numero apb voi non mi sapete dire se è positivo se è negativo o se è più o meno grande di un altro numero apb l'unica cosa che avete di dirmi è qual è il suo modulo il suo raggio diciamo e qual è il suo angolo quindi possiamo parlare di grandezze di angoli ma non ha molto senso allora si può definire un prodotto scalae standard anche su cln considerando che dobbiamo ottenere un numero reale allora e è positivo perché è importante che sia positivo allora se invece che fare v per w prendo il vettore colonna lo metto orizzontale faccio l'altro vettore colonna ok io faccio trasposto di x per il coniugato complesso di y in questo modo ottengo un numero reale maggiore di 0 allora posso calcarci la norma che è sempre definita per esempio così questa è la norma standard esattamente quindi anche nel caso complesso valgo tutte le cose che abbiamo visto il processo di autonormalizzazione varie tutto l'unica cosa che cambia è il teorema spettrale reale che nel caso complesso verrà chiamato teorema spettrale complesso e che riguarda però le matrici unitarie le matrici unitarie sono quelle che hanno come matrice inversa la sua coniugata la sua coniugata trasposta quelle che dicevo che creavano confusione perché si chiamano anche matrici aggiunte che non è l'aggiunta quella fatta dai complementi algebrici ricordate a grande uguale a con i j che è diverso da a con i j a con i j piccolo sono gli elementi generali a grande sono i complementi algebrici quindi determinante le matrici tenute cancellando quella riga con la calonna tipo l'elemento a e j ok il teorema spettrale complesso ok vabbè anche qua unitaria i vettori di riga formano una base corto normale orto normale ok un endomorfismo è auto aggiunto se solo se la matrice che lo rappresenta tramite una base orto normale scritto ah ok ce l'ha scritto è ermitiana le matrici ermitiana le matrici ermitiane sono quelle che invece che averla trasposta uguale coniugato complesso hanno poco la matrice che rimane alterata sotto la trasposizione complessa vi faccio notare che è un caso particolare perché se io ho una matrice che è per esempio 1 meno i 5 5 5 5 5 5 1 più i ok quindi faccio il coniugato di questo ottengo più e meno e il trasposto in questo caso qua non mi cambia niente quindi la matrice non è ermitiana ok ok ce l'ho fatta però fate finta che io abbia questa cosa qua e abbia per esempio i più e i meno quando io ne faccio il trasposto coniugato loro due si scambiano quindi qua 5 meno i e 1 meno 1 più i uffa 5 più i e quando ne faccio il coniugato però cambiano segno quindi qua che c'era meno diventa un più e ottengo proprio 1 uffa i più 5 e qua che c'era i uffa 5 meno i che poi ho trasposto diventato 1 più uffa i più 5 è difficilissimo i più 5 ottengo proprio i meno 5 quindi questa è una cosa particolare di matrice così le ermitiane comprendono le matrici simmetriche perché se una parte immaginaria allora questa coniugata al trasposto è uguale semplicemente al trasposto perché non ci sono numeri complessi quindi il teorema spettare reale comprende il teorema spettare reale allora anche qua la trasposto la matrice ermitiana le radici del pronome catristico sono sempre reali e ad autovalori distinti corrispondono autovettori ortogonali tra i loro e gli autospazi dato che sono quelli formati dalla base di autovettori sono ortogonali unghilo questo quanto è lungo? no allora forme quadratiche abbiamo una matrice n per n a entrate reali indichiamo che un x grande è una matrice da x1 fino a xn allora la matrice x per a del trasposto di x è un polinomio omogeneo di secondo grado che si dice a forma quadratica esempio questa roba qua noi calcoliamo abbiamo x1 al quadrato più 5x2 al quadrato qua occhio perché x1 per x2 in questa cosa qua è uguale a x2 per x1 quindi seguiamo un meno 3 e un meno 4 però hanno gli stessi coefficienti quindi possiamo sommarli e ottenere un meno 4 x1 per x2 idem qua anche se per motivi diversi 1 e 5 li calco una volta e basta se è diagonale mentre loro due hanno gli stessi coefficienti x1 e x2 quindi li posso sommare ok questa viene chiamata forma quadratica reale ok 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 il segno è una forma quadratica questa non me la sto a leggere però si dice definita positiva se io quando calcolo la forma calcica di un vettore x diverso a 0 ottengo numero positivo per ogni x sembra definita idem ma è maggiore o uguale di 0 definita negativa se l'autometro è diverso da 0 la sua forma quadratica è minore di 0 per ogni x sembra definita idem con minore o uguale di 0 e indefinita altrimenti faccio notare che è una definizione lunga difficile e speriamo che esista un altro modo per calcolarsi il segno ok questo è un ottimo caso per evitare di fare i calcoli non so cosa stia facendo io va bene se sulla sull'adecorale di A ci sono un elemento positivo o un negativo la forma associata di sicuro è indefinita poi possiamo sempre fare i cambiamenti di coordinate delle matrici tale da trovare una forma canonica ad ogni forma quadratica una forma canonica è quella associata a x per A per trascorso di x dove A è una matrici diagonale quindi basta prendere i propri coefficienti solo sui diagonali A1 1 A2 2 A N N e moltiplicarli per la parte quadratica della diagonale ok due forme quadratiche sono equivalenti se si ottengono uno dall'altro solo tramite un cambiamento lineare di variabili occhio alla lineare che può dire un po' di tutto perché sono rotazioni sono simmetrie riflessioni ecco due forme quadratiche equivalenti hanno lo stesso segno e lo stesso rango questo potremmo chiamarlo termine silvestre ossia calcoliamo il segno di una matrice allora date due matrici simili due matrici equivalenti non sappiamo se come le matrici simili avevano lo stesso rango se volete un caratteristico stesso determinante stessi autovalori stessi autovettori boh ecco boh però hanno di sicuro lo stesso rango definizione sia q una forma quadratica una forma canonica di q è una forma quadratica in forma canonica che sia equivalente a q la domanda è quante sono queste forme canoniche dipende da se sto usando due variabili tre variabili quattro variabili ecco ovviamente al numero di che c'è variabili ne esistono un pochettino di più questa come basta oh ok però aspetta manca la parte prima dato che noi sappiamo calcolarci gli autovalori di una matrice possiamo collegare gli autovalori di una matrice al segno della cosa quindi c'è un modo un pochettino più veloce di calcolarsi invece q di x per ogni x diverso a 0 allora se si ha p il numero di autolori positivi con n i nomi di autolori negativi e z i nomi di autolori nulli allora di sicuro p più n più z deve fare n perché stiamo parlando di matrici e poi la parte bella è che la sommatoria dei nomi di autolori positivi occhio è contati con molteplicità quindi se il programma caratteristico è lambda meno 2 alla sesta va bene che 2 autolori positivi però vale 6 volte ok la somma delle molteplicità positive e negative è il rango della matrice quindi possiamo vedere come varia la definizione della matrice quindi le caratteri di definizione della matrice allora se sono tutti positivi è difita positiva se sono tutti negativi è difita negativa è semidefinita positiva se non ci sono cose positive è semidefinita negativa se non ci sono cose negative e altrimenti altrimenti se tutti i vari casi in mezzo la regola di cartesio ecco ci permette di non fare calcoli in particolare stiamo parlando di forne quadratiche quindi potrebbe essere una cosa del tipo x quadro più 38 x1 x1 x2 più 37 x2 ecco queste cose qua potrebbero essere semplici da risolvere fate finta adesso una forma quadratica ma io ci metto anche queste cose qua ok cosa ci dice il teorema di guardare solo i segni perché gli autovalori sono caratterizzati solo dai segni in particolare se qua come se ci fosse un più no? se sono uguali succede una cosa se sono diversi succede un'altra cosa in particolare ad ogni variazione di segno equivale una radice positiva a ogni lasciamento di segno uguale in variazione di segno equivale a una radice in gattia quindi questa cosa che ho fatto io sono questo qua è un lambda minore di zero lui è un lambda minore di zero lui è un lambda minore di zero questo mi permette di calcolare il carattere senza sapere gli autovalori che potrebbero essere complicati a piacere coniche abbiamo parlato di forme quadratiche adesso vediamo una cosa un pochettino più complicata questa qua di per sé fino a qui sarebbe una forma quadratica ma poniamoci domanda classifichiamo tutte le possibili forme generiche in due variabili quindi tutti gli insieme di numeri di punti geometrici che vengono definiti a questa cosa qua come varia? allora noi intanto possiamo vedere che possiamo studiare una matrice in cui mettiamo i coefficienti di dei valori al quadrato e dei termini noto sulla diagonale e i termini misti dimezzati nelle varie posizioni relative è come se fosse una colonna di x una colonna di y una colonna di z eccetera e i termini noti e perché dimezzate? perché se io vado a fare x per b per sì forse lo parlo con a vabbè per eta sposto di x ottengo esattamente l'equazione di una conica ma queste coniche quante sono? cosa rappresentano? allora abbiamo parlato di reazioni di equivalenza allora dobbiamo un attimo parlare di quali sono queste reazioni di equivalenza per esempio le affinità preservano le reazioni di equivalenza ossia un'affinità è una funzione del tipo f di x uguale a x più b e si vede che se io prendo delle delle coniche e ci applico dell'affinità non cambiano sostanzialmente quello che sono se era un cerchio rimane un cerchio se era una parabola rimane una parabola magari l'ho spostata magari l'ho shiftata magari l'ho allungata contratta come volete ma rimane nella sostanza nella ciccia una parabola adesso come posso dire che due parabole sono uguali perché se io ho una parabola così è una parabola invece talmente larga che sembra un cerchio cosa cosa significa che sono equivalenti che non è un cerchio no? vediamo capito che la forma è quella ma matematicamente cos'è che fa cambiare questa la distanza non credo perché anche questa è una parabola oppure anche questo qua è un cerchio però sono entrambe nell'origine gli angoli ma in che senso gli angoli ecco dobbiamo trovare il criterio con cui dire che quelle due cose lì sono equivalenti in particolare abbiamo il rango della matrice B la segnatura della matrice B e la segnatura della matrice A occhio sulle segnature il tipo quindi verrà chiamata classe di equivalenza dopo però una coppia una coppia una coppia PQ è equivalente a un'altra coppia QP la loro classe equivalenza è la stessa in pratica è come prendere le coppie ordinate e non ordinarlo affatto questo perché in pratica le affinità possono prendere i tuoi autovalori e se erano positivi ti rendono negativi e viceversa ma sai già che lo faccio quindi l'importante è che se erano tutti positivi quindi la matrice è la definta positiva allora magari possono diventare tutti i definti negativi ma questo non cambia che la segnatura sia il tipo N0 o 0N ed ecco la classificazione delle coniche adesso questo è un attimo difficile perché tutte le possibili forme geometriche che noi abbiamo in R2 quindi con solo due variabili sono in questa pagina abbiamo rette piani circonferenze ellissi iperbole rette pareree rette secanti e rette doppie forse ho detto piani intendevo no niente piani se no non ha senso ok e adesso otteniamo il rango e la segnatura e la segnatura di B di A senza guardare lo schema allora abbiamo una matrice pensiamo di mettere questa forma qua in una matrice dobbiamo metterci i coefficienti di x qua abbiamo x quadro più y quadro più 1 uguale 0 la matrice la matrice B deve essere formata da una ingridia che ha quei coefficienti delle x delle y e delle 3.000 x y e delle 3.000 qua abbiamo 1 e quindi 1 qua abbiamo 1 e quindi 1 e qua abbiamo 1 e quindi 1 gli altri termini misti che andrebbero divisi termine x y che è lo spanto un po' qua un po' qua è diviso per 2 il termine solo con le x che è qua e che qua è 0 e qua è qua ok adesso senza stare a pensare cosa sia abbiamo qualcosa che ci ricorda un cerchio x quadro e piy è un quadro e c'è un più 1 ma il più 1 diciamo che ne ha posizione sbagliata perché se io lo scrivo cos'ha uguale a meno 1 pensate ho la somma di quadrati che è positiva uguale a un omo negativo di per sé graficamente questa cosa qua è l'insieme vuoto però dato che ci ricorda una circonferenza che in realtà è un particolare tipo di ellisse perché se io mettessi qua 2 già magari invece che uscirmi così mi sarebbe uscito così quindi è un particolare tipo di ellisse che lo chiamiamo ellisse è immaginario perché non esistono sul piano reale cose che a quel somma di quadrati faccia meno 1 però sul piano immaginario sì quindi per esempio questo è l'ellisse immaginario quindi qual è la segnatura di B? non dobbiamo fare i calcoli perché è già in forma canonica quindi è già una matrice in cui ha lambda lambda e lambda quali sono i suoi autovalori? 1 con moltiplicità logica 3 quindi qual è la segnatura di B? la segnatura di B sono 3 autovalori positivi e 0 negativi adesso qual è A? A è solo la parte quadratica quindi la parte che interessa loro due di nuovo ha i suoi autovalori qua qual è la segnatura di A questa è la segnatura di B la segnatura di A vale 2 autovalori positivi e 1 0 voilà il rango di B o lo calcoliamo o calcoliamo il terminante vediamo quando è uguale a 0 e questo non si ottiene però vedete le segnature sono molto facili a ridurre ok la prima ellisse immaginaria l'abbiamo visto ellisse reale questo qua è un cerchio centrato nell'origine però potrebbe essere non centrato shiftato ok l'iperbole la conosciamo ha due assi simmetria e due assi in tutti obliqui la parabola la conosciamo è l'unica che possiamo parlare di un vertice così come per le quadriche è l'unica di cui possiamo parlare di di un vertice del paraboloide ok e adesso abbiamo finito con le coniche non degeneri ossia quelle che hanno il rango di B uguale a 3 ossia il terminante di B diverso da 0 adesso vediamo quelle che hanno il rango 2 e il rango 1 la rete immaginaria incidenti e le rete reali incidenti di nuovo queste qua sono ortogonali anche ma non è detto che lo siano le affinità possono cambiare completamente una cosa perché la affinità che è un termine generico per dire rotazioni simmetrie omotetie ossia contrazione di assi anche magari di modo diverso rispetto a un certo asse o un altro ti prendono una conica che tu la vedi bella magari ti fanno uno schifo che è incapibile retta immaginari parallele retta reali parallele retta doppia e l'equazione x quadro uguale a 0 è l'unica che ha rango 1 questo è l'algoritmo per calcolarsi vero bene adesso proviamo a classificare anche le quadriche ossia tutti gli insieme di funzioni di elementi che rappresentano qualcosa data da tutte le possibili combinazioni miliari di x y e z di nuovo creiamo la matrice che rappresenta la quadrica e creiamo la matrice che rappresenta soltanto la parte qui coefficiente è dato 2 quindi x quadro y quadro z quadro x y x z e y x di nuovo ogni quadrica equivalente tramite affinità ho delle forme canoniche quante sono ecco adesso vediamo che sono 17 sono un pochettino di più però sono molto molto visuale a vedere ovviamente possiamo prendere una di queste quadriche e studiare per esempio l'intersezione con un'altra allora dall'intersezione di quadri che cosa si ottengono le coniche che sono figure bidimensionale l'elissoide immaginario stesso ragionamento di prima ragazzi sommatore di quadrato uguale a meno 1 ci ricorda una sfera ma non proprio la sfera è un caso particolare dell'elissoide e la segnatura è una matrice che ha tutti 1 sulla diagonale quindi è una matrice di identità allora la segnatura è già in forma diagonale è 4 autovalori positivi o negativi e 0 negativi e la segnatura di A che è 3 per 3 è 3 autovalori positivi e 1 e il suo negativo ok e l'elissoide areale di per sé così è una sfera ma se io già diventissi un 2x quadro verrebbe qualcosa più storto iperboloide ellittico vinte a dire iperboloide iperbolico di nuovo su entrambi vedete che ricalcono le iperboli però qua viene chiamato anche la due palde mentre questo qua invece è il classico cono delle centrali riie nucleari ora poi dell'elittico le pringles queste va viene chiamato punti sella questi qua al centro perché ovunque io ci passi ok se io cavalco questa zona qua vedo che la derivata in questo punto rispetto alla mia direzione è 0 quindi credo che sia un minimo dato che sto scendendo poi salendo ma se io ci vado da qua salgo 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 tangente orizzontale quindi poi più 100 uguale a 0 poi scendo 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 e credo che sia un massimo e esistono questi punti qua a serena di cavallo in cui appunto vengono chiamati iperboli adesso abbiamo finito le quadriche che hanno determinante che hanno determinante di B diverso da 0 ora passiamo a quelle che hanno determinante di quale 0 quindi rango 3 o rango 2 o rango 1 con immaginario con reale lo conosciamo tutti occhio che è doppio non è uno specchio d'acqua è proprio sono due coni questi qua si usano un sacco di coni di luce per tutto in fisica cilindri immaginari ecco i cilindri ne esistono un po' perché abbiamo i cilindri elettici quindi quelli che hanno il buco a forma di ellisse o di cerchio i cilindri iperbolici quindi sono dei piani arrocolati a seguire una iperbole occhio questo qua è l'unico che abbia un'equazione abbia due equazioni poi i cilindri parabolici e adesso passiamo a prendere anche due che sono piani immaginari piani reali incidenti piani immaginari paralleli piani reali paralleli e il piano doppio poi adesso le varie rette e le altre cose le otteniamo dall'intersezione delle quadriche questo è lo schema e questo è lo schema e questo è lo schema è lo schema Grazie.